l'eremita insieme ad alcuni amici eravamo andati a vedere il vecchio eremita installato su un vecchio tumulo riparato da grandi alberi al centro dell'ampia spianata che va da khan alla napulla al ritorno parlavamo di questi esseri singolari di questi solitari laici che una volta erano numerosi e che ora vanno scomparendo cercavamo le motivazioni morali tentavamo di scoprire la natura delle disgrazie che spingevano una volta i uomini alla solitudine all'improvviso uno di noi disse ho conosciuto due eremiti un uomo e una donna la donna dove essere ancora viva cinque anni fa abitava un rudere in cima a una montagna deserta sulla costa della corsica a 15 o 20 chilometri da ogni abitazione viveva là con una domestica sono andato a trovarla era stata sicuramente una signora del bel mondo mi ricevete con cortesia e persino con grazia ma di lei non so niente non riuscii a scoprire niente quanto all'uomo vi racconterò la sua sinistra vicenda voltatevi vedete laggiù quella montagna fatta a punta e verdeggiante che si eleva dietro la napul sola avanti le cime dell'estrel nella zona la chiamano il monte dei serpenti il mio solitario viveva là tra le mura di un piccolo tempio antico all'incirca 12 anni fa poiché avevo sentito parlare di lui presi la decisione di fare la sua conoscenza e partì a cavallo da canna un mattino di marzo dopo aver lasciato il cavallo alla locanda di la napul mi misce a salire quello strano cono alto sienò 200 metri e coperto di piante aromatiche soprattutto di cisto il cui odore è tanto vipo e penetrante che può inebriare e causare malessere il terreno è petroso e spesso tra i selci si vedono scivolare lunghe bisce che spariscono tra l'erbe deriva da ciò il soprannome ben meritato di monte dei serpenti ci sono giorni in cui i rettili sembrano spuntare da sotto i vostri piedi quando si affronta quella assolata salita sono così numerosi che manca il coraggio di andare avanti e si prova un singolare disagio non per paura trattandosi di animali inoffensivi ma per una specie di mistico spavento ho provato parecchie volte la singolare sensazione di scalare uno dei sacri monti dell'epoca antica una bizzarra collina profumata ed arcana coperta di piante esotiche popolata da serpenti e con in cima un tempio questo tempio esiste ancora o almeno mi hanno detto che si trattava proprio di un tempio non ho voluto saperne di più per non deludere la mia emozione dunque una mattina di marzo stavo salendo col pretesto di ammirare il paesaggio arrivato sulla sommità scorsi dei muri diroccati e un uomo seduto su di un masso non avrà avuto più di 45 anni nonostante i capelli completamente bianchi la barba era ancora quasi nera stava carezzando un gatto accovacciato sulle sue ginocchia e non sembrava occuparsi di me feci il giro dei ruderi una parte dei quali aveva una copertura e una chiusura fatta con rami d'albero paglia e massi ed era abitata dall'eremita poi tornai verso di lui da lassù il panorama è splendido a destra c'è l'estrel dalle cime a guzze tagliate in modo strano poi un mare senza confini che si stende sino alle lontane coste italiane con tutte le loro numerose insenature e di fronte a canna sino alle isole di laren verdi e piatte simili a chiatte naviganti l'ultima delle quali offre alla vista verso il mare aperto un alto e vecchio castello dalle torri merlate costruito proprio sulle onde poi sopra quella verde costiera dove si snoda il lungo rosario di ville e di cittadine bianche costruite tra gli alberi simili da così lontano a uova deposte sulla spiaggia si elevano le alpi con le cime ancora incappucciate di neve mormorai cristo se è bello l'uomo solevo al capo e disse sì ma quando lo si vede per tutta la giornata è monotono e così il mio solitario parlava mi rispondeva e si annoiava era mio non rimasi molto tempo quel giorno e cercai soltanto di scoprire di qual tipo fosse la sua misantropia mi fece l'effetto di qualcuno che è stanco degli altri annoi e poi ci tornai otto giorni dopo e poi una volta alla settimana per tutte le settimane successive nello spazio di due mesi eravamo diventati amici una sera verso la fine di maggio ritenne che fosse arrivato il momento giusto e portai con me qualche provvista per cenare insieme con lui sul monte dei serpenti era una di quelle sere del sud così dense di aromi in quel paese dove si coltivano i fiori come il grano nel nord in quel paese in cui si producono ogni genere di profumi per le carni e le vesti delle donne una di quelle sere in cui l'olezzo degli innumerevoli aranceti nei giardini e nei declivi dei colli turba e languidisce sino a far sognare d'amore anche i vecchi il mio solitario mi accolse con gioia evidente era lieto di dividere la mia cena gli feci bere un po' di vino di cui aveva perso l'abitudine si animò presi a parlare della sua vita passata aveva abitato sempre a Parigi e condotto un'allegra vita da scapolo mi parve all'improvviso gli chiesi che razza di idea v'è venuta di appollaiarvi su questa cima rispose subito ah il fatto è che ho subito il trauma maggiore che possa capitare a un uomo perché nascondervi questa disgrazia forse otterrò la vostra compassione e poi ecco non ho mai rivelata a nessuno e vorrei sapere una volta tanto quel che ne può pensare un'altra persona e come la giudica nato ed educato a Parigi sono cresciuto e ho vissuto in questa città i miei mi avevano lasciato una rendita di qualche migliaio di franchi ottenni per raccomandazioni una occupazione modesta e tranquilla che faceva di me un giovanotto ricco sin dall'adolescenza avevo fatto la vita degli scapoloni sapete di che si tratta? libero senza famiglia risoluto a non ammogliarmi trascorrevo qualche volta tre mesi con una donna qualche volta sei mesi con un'altra poi un anno da solo andando a caccia nella riserva di ragazze che si lasciano prendere o che ci vendono questa vita mediocre e banale se volete mi piaceva soddisfaceva le mie naturali propensioni al cambiamento e alla bighellonaggine vivevo sulle strade nei teatri e nei caffè sempre fuori casa quasi senza un'abitazione fissa benché possedessi una graziosa casetta ero uno dei tanti che si lasciano fluttuare nella vita come tappi di sughero uno di quelli per cui le mura di Parigi sono le mura del mondo e che non si preoccupano di nulla dato che ogni loro passione è spenta ero di quelli che si definiscono bravi ragazzi senza qualità e senza difetti ecco sono certo di giudicarmi con esattezza dunque dai 20 ai 40 anni la mia esistenza trascorse lenta e rapida ma senza essere scossa ad avvenimenti particolari come passano presto questi anni monotoni di Parigi senza nessun ricordo che fissi una data anni lunghi e frettolosi banali e allegri anni in cui si beve, si mangia, si scherza senza sapere perché le labbra tese verso qualsiasi cosa abbia un gusto o un'attrazione ma senza aver voglia di nulla eravamo giovani e ora siamo vecchi senza aver fatto niente di quel che fanno gli altri senza ideali, senza radici, senza legami quasi senza amici senza famiglia, senza donne senza figli così toccai pian piano la quarantina per festeggiare quest'anniversario mi offrì sempre da solo un buon pranzo in un ristorante rinomato ero un solitario nel mondo mi piacque celebrare questa data da solo dopo ero incerto su quel che dovevo fare mi venne l'idea di entrare in un teatro e poi quella di andare a girellare per il quartiere latino dove avevo studiato attraversai dunque Parigi ed entrai senza pensarci in una di quelle birrerie in cui tutti i servizi sono svolti da ragazze quella che si presentò al mio tavolo era giovanissima molto carina e ridente le offrì qualcosa da bere e lei accettò subito si sedette di fronte a me e mi guardò con occhio esperto senza sospettare con quale tipo di maschio aveva a che fare era una bionda anzi una biondina una creatura freschissima che si indovinava rosa e ben tornita sotto la stoffa imbottita del corpetto le dissi le cose più stupide e galanti che si dicono sempre a gente di quel tipo e poiché era davvero graziosa mi venne subito l'idea di portarmela via sempre per festeggiare il quarantesimo compleanno non fu cosa lunga né difficile era assolutamente libera da quindici giorni mi disse e accettò per prima cosa di venire a cenare a Leal alla fine del suo lavoro nel dubbio che potesse non farmi compagnia non si sa mai quel che può succedere né chi può entrare in locali come quello né quale venticello ospiri nella testolina d'una donna rimasi là tutta la serata per aspettarla ero libero anch'io da un mese o due e mi stavo chiedendo guardando a svolazzare da un tavolo all'altro quella minuscola debuttante in amore se facevo bene a sistemarmi con lei per un po' di tempo vedete è proprio una volgare storia di tutti i giorni nella vita di un uomo a Parigi scusate questi particolari triviali coloro che non hanno amato in modo poetico prendono e scelgono le femmine così come si sceglie un pezzo di carne dal macellaio senza preoccuparsi d'altro che della qualità andammo a casa di lei visto che portavo rispetto alle mie lenzuola era un appartamentino al quinto piano una casetta d'operaia povera e pulita ci passai un paio d'ore stupende aveva quella piccina una grazia e una gentilezza straordinaria quando ero sul punto d'andarmene andai verso il caminetto per depositarvi il regalino regolarmente dopo aver fissato un appuntamento per un'altra visita alla ragazza che era rimasta a letto distinse appena un orologio sotto la campana di vetro due piccoli vasi di fiori e due fotografie una delle quali risaliva molti anni prima un daguerrotipo su vetro mi chinai casualmente verso quel ritratto e rimasi interdetto troppo sorpreso per poter realizzare ero io era uno dei primi ritratti che mi ero fatto un tempo quando ero studente al quartiere latino la ferrai con ansietà per osservarlo da vicino non mi ingannavo mi venne da ridere tanto la cosa mi apparve inaspettata e divertente chiesi chi è quel signore e lei rispose è mio padre non l'ho conosciuto mamma mi ha lasciato quel ritratto dicendomi di conservarlo perché forse un giorno mi sarebbe servito esitò rise e riprese non so proprio a che di certo non verrà mai a riconoscermi il cuore mi batteva precipitosamente simile al galoppo d'un cavallo imbizzarrito rimisi il retratto al suo posto sul caminetto vi poggiai sotto senza rendermi conto di quel che stavo facendo due biglietti da cento franchi che avevo in tasca e scappai esclamando a voce alta a presto arrivederci ciao cara sentii che rispondeva a martedì ero già nella scala buia e la discendevo a tastoni quando uscii dal portone mi accorsi che stava piovendo e mi allontanai quasi di corsa in una strada qualunque andavo avanti spaventato smarrito cercando di ricordare era possibile sì all'improvviso mi ricordai che una ragazza mi aveva scritto un mese dopo la nostra rottura che era rimasta incinta di me avevo lacerato bruciato la lettera e dimenticato la storia avrei dovuto guardare la fotografia della donna sul caminetto della piccola ma avrei potuto riconoscerla era la fotografia di una donna anziana mi pareva raggiunsi una piazzetta col giardino vidi una panchina e mi sedetti pioveva ogni tanto passava qualcuno sotto l'ombrello la vita mi apparve odiosa ributtante piena di miseria di vergogne di infami volute o incoscienti mia figlia forse avevo posseduto mia figlia e Parigi quest'enorme Parigi oscura fosca fangosa trista e nera con tutte quelle case equivoche era piena di orrori simili di adulteri di incesti di ragazzi violati mi vennero in mente i fatti che avvenivano sotto i ponti frequentati da infami pervertiti senza volerlo senza saperlo io avevo compiuto qualcosa di ancora più atroce avevo fatto peggio di quegli esseri ignobili ero entrato nel letto di mia figlia poco mancò che non mi buttassi nel fiume ero pazzo errai fino a quando si fece giorno poi tornai a casa mia per riflettere feci allora quel che mi parve più ragionevole pregai un notaio di chiamare la ragazzina e domandarle in quali circostanze sua madre le aveva consegnato il ritratto di quello che si supponeva fosse il padre dissi che ero stato incaricato di questa ricerca da un amico il notaio esegui i miei ordini il padre era stato indicato alla ragazza dalla madre in punto di morte e davanti a un sacerdote di cui mi fu fatto il nome allora sempre celandomi dietro quest'amico che doveva rimanere sconosciuto fece avere alla ragazza la metà esatta delle mie sostanze all'incirca centoquarantamila franchi lei avrebbe potuto disporre solo della loro rendita detti poi le dimissioni dal mio impiego ed eccomi qui visitando questi posti ho trovato questo monte e mi sono fermato qui fino a non lo so che cosa pensate di me e di quello che ho fatto come risposta gli tesi la mano avete fatto quello che era giusto fare molte altre persone avrebbero dato un'importanza assai minore a quella fatalità ricominciò lo so ma io io stavo per impazzire forse sono più sensibile di quanto pensassi e adesso Parigi mi fa paura allo stesso modo con cui i credenti temono l'inferno ho ricevuto un colpo in testa ecco tutto un colpo che potrebbe essere paragonato alla caduta di una tegola mentre si passa per la strada da un po' di tempo però va meglio lasciai il mio solitario il suo racconto mi aveva turbato l'ho rivisto ancora un paio di volte poi sono partito perché non rimango mai nel sud dopo la fine di maggio quando sono tornato l'anno seguente quell'uomo non era più sul monte dei serpenti non ho mai più sentito parlare di lui ecco questa è la storia del mio eremita è una storia